Allora, quando uno va in banca non bisogna tanto ascoltare i vari funzionari della banca perché loro spiegano le cose per l'interesse della banca, inerenti solo all'interesse della banca e a nona al cliente. I clienti le raccontano sempre delle tante storie che possono essere belle come le riscrivono ma poi non rendono niente, non danno niente al cliente. Perciò bisogna prenderli sempre con un certo sospetto nelle cose e mai firmare niente subito quando spiegano le cose. Tornare a casa, fare i vari controlli di quello che è stato detto dai funzionari e vedere se veramente c'è la convenienza oppure no. Se la convenienza è solo per la banca e non per il cliente che ci mette i soldi oppure se c'è anche dell'interesse per il cliente. Vi saluto e a presto.